Buonasera, benvenuti al Tg regionale per sordi. È arrivata dalla Cassazione la condanna definitiva per Rodolfo Fiesoli, 79 anni, il profeta e fondatore della Comunità Il Forteto per minori disagiati a Vittio del Mugello, in provincia di Firenze, al centro di una vicenda di maltrattamenti e abusi su minori disagiati. Fiesoli dovrà scontare 14 anni e 10 mesi di carcere. L'uomo, che fino alla sentenza della Cassazione si trovava nella residenza sanitaria per anziani Sanatrix di Aulla, si è consegnato ieri sera ai carabinieri di Padova, città nella quale si è recato accompagnato dalla moglie perché è nel carcere della città veneta che avrebbe voluto scontare la pena. Definitiva anche la condanna a 6 anni e 4 mesi per Daniela Tardani, una delle madri affidatarie che si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano. Rodolfo Fiesoli, dopo la condanna definitiva in Cassazione, ha deciso di dare mandato ai suoi legali di presentare ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo contro la condanna pronunciata ieri, ritenendo di aver subito un processo non equo. Una donna anziana è stata investita gravemente questa mattina intorno alle 9 in viale delle Olimpiadi a Empoli, all'altezza di via della Maratona. Secondo i rilievi della Polizia Municipale, un mezzo pesante ha urtato la donna sulle strisce pedonali. L'anziana si stava recando al mercato settimanale del giovedì, nella zona dello stadio. Sul posto il 118 con un'ambulanza e l'automedica del 118. Vista la gravità delle condizioni è stato fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso, con cui è stata portata all'ospedale Careggi in codice rosso. Incidente sul lavoro ieri alla JSW Italia di Piombino, dove durante un carico di rotaio un giovane operaio è caduto procurandosi una frattura scomposta al braccio. Lo rende noto il segretario provinciale UGL di Livorno, Claudio Lucchesi. L'operaio, spiega Lucchesi in una nota, è stato trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso, non essendoci più un presidio medico in fabbrica. Tre giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni albanesi sono stati sottoposti a fermo di indiziato di reato dai carabinieri per ricettazione. Due sono stati bloccati ieri in un'area nei pressi della stazione ferroviaria di Rignano, sull'Arno, mentre recuperavano da un sacco alcuni oggetti, tra cui borse griffate, capi di abbigliamento. Risultati rubati in furti in abitazione messi a segno nella zona nei giorni scorsi. Un terzo complice è stato bloccato poco dopo nel centro di Firenze. Tra gli oggetti rubati trovati in possesso dei tre, borsi a marchio Prade, un a marchio Gucci, la chiave di accensione di un'auto, giubbotti, scarpe, profumi e occhiali di marca. Sequestrato anche uno zaino contenente attrezzi da scasso. Per evitare la multa sulla tramvia ha cercato di spacciarsi per un'altra persona, mostrando ai controllori un documento appartenente a un uomo di quasi 30 anni più anziano. Così facendo ha ricevuto una denuncia per sostituzione di persona. È successo ieri nei pressi della fermata Guidoni della linea T3 a Firenze. L'uomo, un cittadino pakistano di 23 anni, è stato sorpreso dai verificatori mentre viaggiava sul mezzo senza biglietto. Alla richiesta degli addetti di mostrare loro un documento d'identità per poter compilare la multa, il giovane ha tirato fuori una tessera sanitaria che con ogni evidenza non gli apparteneva. Il documento riportava i dati di un fiorentino di 47 anni che i controllori hanno subito riconosciuto come ben più anziano rispetto al ragazzo. La sicurezza in Italia è un termine spesso evocato anche in modo strumentale anche se le forze di polizia fanno i conti con situazioni di organico allarmanti da molti anni mancando almeno 15.000 agenti ma serve anche un impegno per fare in modo che la sicurezza urbana si è intesa dentro un percorso di inclusione e sicurezza sociale. Lo ha detto Giuseppe Massafra della Segreteria Nazionale della CGL a margine del convegno sicurezza urbana quale modello promosso da SILP CGL a Pisa. Un gruppo del Movimento Fridays for Future di Firenze ha dato vita ieri sera al Terminal Passeggeri dell'aeroporto di Firenze a un die-in cioè si sono distesi sul pavimento come morti esponendo cartelli come meno aeroporti più parchi non vogliamo l'ampliamento della pista. La protesta è contro il progetto di nuova pista dell'aeroporto. Note dell'inno di Mameli e gli studenti delle scuole cittadine hanno accompagnato stamani il taglio del nastro ufficiale per l'apertura al pubblico della mostra Modigliani e l'avventura di Montparnasse capolavori della collezione Necter e Alexandria inaugurata al Museo della Città e che durerà fino al 16 febbraio 2020. Ieri abbiamo fatto una preview con oltre 100 giornalisti da tutta Italia vi ha detto il sindaco Luca Salvetti davanti ai ragazzi delle scuole cittadine ma l'inaugurazione è questa con voi ragazzi di Livorno e con tutti i Livornesi. Questo museo e questa piazza sono un bene vostro che vi ritroverete da ora in poi come luogo per fare cose belle e dove all'interno troverete cose straordinarie. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Molto nuvoloso, coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale localmente di forte intensità. Venti inizialmente moderati da sud in rotazione a ovest nel corso della mattinata con rinforzi sulla costa centro-settentrionale. Mari mossi tendenti a divinire molto mossi a nord dell'Elba. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione con calo più accentuato dalla sera. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci.